Bentornati su Noma Mammazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica fantasy. Oggi parliamo di Kalia numero 11, la battaglia ad Hobur. Parliamo insieme dopo la sigla. Allora, con colpevole ritardo sono a parlare del numero 11 di Kalia, che ne parlo ora dopo circa una settimana che l'ho letto. Mi scuso anche per il fatto che di recente ho praticamente pubblicato un video a settimana e non sto caricando dei TikTok, però appunto un po' ho avuto dei contrattempi anche di salute. Però vorrei anche approfittare per dirvi che con l'arrivo dell'inverno, con l'arrivo di ottobre, è probabile che la frequenza, che la cadenza dei miei video resti questa, ovvero pochi video o addirittura anche meno di quelli delle ultime settimane, perché appunto poi, oltre a lavorare e ad avere questo hobby, ricomincerò una scuola che sto facendo. Chi mi conosce in modo più stretto lo sa, chi non mi conosce in modo più stretto lo scoprirà. E quindi è probabile che accantoni tenga a galla il canale, come si dice, per lo stretto indispensabile, finché appunto non finisse questo periodo, che sarà appunto dalla prossima estate. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano i fantasy e di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo numero e di questo mio video. Qualcuno nei miei commenti ha scritto Calia è già finita. Calia è già morta, intendevano, no? Come se questa storia non sapesse già più da fare. Ora, non nego che anche io sono stato uno dei primi che ha assorbito molto lentamente Calia, anche perché lo sapete, non sono abituato al fantasy a fumetti, è difficile per me scostarsi dal fantasy classico, cioè da tutto ciò che non è signore degli anelli, a meno che non si va molto in altre direzioni, cioè in cose molto diverse. E Calia appunto l'ho digerita gradualmente. Un po' l'ho iniziata a leggere, perché era il nuovo fumetto della Bugs Comics, Bugs Comics nella quale io credo molto, perché sono un grande sostenitore di Samuel Stern, e appunto ho voluto dare una possibilità anche a questo nuovo fumetto, però appunto non essendone avvezzo agli stilemi, ai ritmi, e quindi ci sta anche che io l'abbia assorbita lentamente, però che non mi si venga a dire che nel numero 11, la battaglia di Hobur, Calia si può definire finita. Calia comincia adesso, è adesso che si entra nel vivo. è vero, è passato un anno, è finita la prima stagione, dove si è rispettato il classico stilema del fantasy, ovvero quello del viaggio. Adesso si è arrivati alla destinazione, la missione è quasi conclusa, la conclusione della missione è vicinissima, ma secondo me Calia è lontanissima dall'essere finita, anzi, qui ci sarà qualcos'altro, ci sarà... si entrerà ancora di più nel vivo, si esplorerà ancora di più questo mondo, anzi, a me è adesso che Calia inizia a piacere. Detto ciò, come sempre si sa la storia di Lamberti Cantone, i layout sono sempre di Lamberti, in questo giro hanno chiamato Giulio Riosa, o Riosa, ditemi come cade l'accento, per i disegni, parto sempre dai disegni, perché i disegni mi sono piaciuti tantissimo, mi piace un sacco la pulizia di questo tratto, che è quasi, passatemi il termine, futuristica, cioè è così pulito, che può... sembra un... è così definito, che sembra ambientato nel futuro, quando magari da un fumetto ambientato, chiamiamolo, nel passato, comunque in un'epoca che ci fa pensare a epoche passate, magari uno è abituato a un tratto più vecchio, magari un tratto più bonelliano. Questo contrasto che c'è in Calia lo adoro ed è un po' anche la sua... la sua caratteristica principale. Mi sono piaciute molto le inquadrature, i personaggi sono disegnati da Dio, anche perché ci sono delle espressioni nuove, vediamo sorridere Calon, vediamo Calia che ha un dialogo con Calon, ci sono dei primi piani, ci sono delle inquadrature per tre quarti, vediamo Calia stupita, quasi arrabbiata, la vediamo sorridere, ed è sempre coerente a se stessa che purtroppo non è una cosa scontata, in generale nei fumetti bonelli, anche nei bonelli stessi, e mi è piaciuto molto che ci sia questa costanza appunto nei volti dei personaggi. Il gruppo che si è formato mi risulta molto affezionato, sono molto felice di aver fatto questa strada insieme a loro e ho esultato parecchio quando il nano Bael, che è stato appena proclamato re, ha deciso di incamminarsi con la compagnia verso il viaggio finale di Oburu. Ho davvero, quando l'ho letto, ho esultato, perché mi scocciava tantissimo se non ci fosse stato il nano in questo viaggio. Un po' mi è dispiaciuto quando ho visto che tra i personaggi principali il nano non c'è, quindi ho quasi temuto che appunto, cioè temo tuttora che alla fine di questa saga giustamente tornerà a regnare e quindi non farà più parte diciamo della compagnia. Però è anche vero che dopo questo numero, dopo il prossimo numero, la parte del viaggio è anche conclusa, quindi non è detto che i nostri protagonisti saranno comunque insieme, potrebbe sciogliersi la compagnia e potremmo vedere altre trame. sempre con i loro protagonisti, ma magari distanti, quindi io spero che Bael continui ad essere una parte importante di questo gruppo. Sì, era abbastanza palpabile, era abbastanza sospetto il fatto che ci fossero dei seguaci del cugino di Bael che tramassero contro di lui, che tendessero un agguato durante il viaggio, questi stolti che mettono le scaramucce di palazzo di fronte al benessere dell'umanità tutta, cose che tra l'altro non succedono nella vita reale. Stranissima questa cosa che delle nazioni pongono la propria nazione, i propri interessi di fronte alla salvaguardia di tutto il mondo. Non succede, succede meno male che libri fantasy ce lo fanno scoprire di questa cosa. È stato bello anche vedere il costrutto di questo Galdest, Galdest, nessuno mi corregge quindi io continuo a dirlo in entrambi i modi. Ci hanno spiegato appunto perché è questo particolare Galdest che sta vicino a Calia perché appunto è l'unico che riesce a tenere dei costrutti così articolati per così tanto tempo e quindi ha un suo senso. Devo dire che Hobur me l'aspettavo totalmente diversa però obiettivamente ha senso. Da Hobur pare sia partita la minaccia del Morbo Pallido però io me l'aspettavo una città molto più solenne un po' come Galdor con le giuste rovine che può aver arrecato il Morbo Pallido e invece sembra proprio un paesino del Far West con un enorme voragine un enorme cava da dove ha proliferato questo terribile Morbo. Ma lì sicuramente può essere sicuramente anzi sarà colpa mia perché appunto per velocizzare i primi numeri magari non ho letto molte note soprattutto non ho letto molto approfonditamente il libro di Teia per non rovinarmi la sorpresa come dicevo nei primi numeri e quindi può essere che avessero spiegato che Hobur era così però vabbè ci sta è stata anche una sorpresa per me leggerlo parlando di sorprese scopriamo che Varnon appunto non era a conoscenza di questo di questo gesto scellerato che ha fatto il regnante Pellegrigia che adesso mi sfugge come si chiama ai danni del popolo elfico quindi è incazzatissimo e dal momento che lo sappiamo è un personaggio razzista è un personaggio molto negativo sicuramente non non sfogherà questa sua rabbia in modo costruttivo cioè prendendosela con chi ha fatto questo danno anche perché questa persona è morta da anni ma sicuramente se la prenderà con tutta la razza quindi con tutta la specie scusate se la prenderà con tutti i Galdest e se la prenderà con chi somiglia anche vagamente a Galdest quindi se la prenderà anche con Kaliar nel prossimo numero che si chiama Malkuth dove ci hanno anticipato praticamente un faccia a faccia tra Varnone e Kaliar sicuramente Varnone sfogherà tutta la sua ira su Kaliar in quanto per qualche ragione collegata alla razza Galdest anche se non sappiamo appunto come può essere un mezzo sangue dato che Galdest non si possono accoppiare con gli esseri umani però lo scopriremo nel prossimo numero sicuramente no probabilmente sarà da qui dall'epilogo di questa prima stagione che si inizieranno a dipanare i dubbi per quanto riguarda la storia di Kaliar probabilmente non ho assolutamente fretta sono contento di continuare questo viaggio fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video non so cioè sicuramente sarà settimana prossima non so su cosa sarà probabilmente resteremo nell'ambito fumetti grazie ancora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti